secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie ok ah ah sei incastrato sei incastrato quel cavo ok eccomi quello lo so fare aspetta che non vi sento non vi sento king supreme parlate ok 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 ora vi sento allora proviamoci a non vi assicuro niente ma ci si può provare com'è che si chiama voi non sapete la routine di jody e grimbaud all'old sentiamo sentiamo come ci vedi tu la routine si arriva all'esterno dai chiama il gestore scusami giuli scusami giuli ormai amica così oh toccata salutano il gestore entrano tavolo eh tavolo che c'è l'esterno è meno più del tavolo nel tavolo si entra così è il miracolo entrare ogni tre minuti dicono timbro dov'è il timbro? fa vedere il timbro entra così e tu guarda ce l'ho qua per favore non mi menare no ti giro ok e poi basta si sta così no con tutta la gente che passano ogni tanto ti passa Diego Lazzari casino I am bonetti e finisce qua la serata no? tu fai lei il serpente e basta lo so sentirei farei women così tranquillissima vale altro tipo si va va fallo fare a lei gentiluomo grazie grazie mille assurdo assurdo no 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 assurdo la live è iniziata con oggi ah si? così a nicchia è fuori non toccare che è fidanzata io posso come si chiama il tuo ragazzo Alessandra? oltre che è fidanzata è minorenne ci abbiamo 21 anni Gio adesso mi fa anche la polemica perché ho 21 anni insomma vabbè che penso sia in grado di arrivare a questo punto però non credo dai però stiamo un po' esagerando posso dire che ti svegli in questo letto matrimoniale gigante ti giri alle tue spalle e vedi questo ragazzo bellissimo però questo ragazzo bellissimo può dire due cose tu prefiesti che dicesse Milano City alzate le mani lori figlio di puttano no finocchio e basta una persona magari si frequentava con questa persona in modo leggero ci è andato a letto qualche volta e tutto quanto secondo te questa cosa quindi però per forza di cose esclude che il suo miglior amico possa averci a che fare sotto il punto di vista sessuale? no se a lui non ne frega niente no il pieno da lui però se lui ti dice no è no secondo me se lui mi dice no è no esatto è sempre quello senti ma su instagram di chiunque si però screenshotati e messi in galleria ok ha mai mi ha invitato una ragazza in live solo perchè te la volevi scopare ma è in live è una che gli piace stare sui social a instagram e allora vai chiamala in live metti via voce senza neanche dirlo ma ragazzi mi sento le scrivo no 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 vai devasta questa line vai vai aspetta ti posso tutta la faccia vai no zio no no ho un dito nell'occhio l'hai messo aggressività fai tipo i capelli di Alessio dai no basta questa è molestia ragazzi basta vabbè vabbè vai Giulia Giulia dai Giulia che ho sulla maglietta vedi che sta urlando a una capra ed è nudo col pisello di fuori ma è stato censurato il pisello quindi signori di twitch non c'è problema ok e siete fidanzate noi due no lei al centro si ok mi dispiace che tu sia qui in questo canale dove è tutto un nooo quelle cose furbo quelle cose la ok no adesso non voglio parlare mai di voi ragazzi nessuna tu pensi che anzi voi pensate che l'amore sia una droga o lo volevo chiedere io o lo volevo chiedere io bravo condizione secondo me in alcuni casi si è una droga che fa male o che fa bene tutte e due ok per te è una droga il tuo fidanzato? sai che con le droghe bisogna smettere scherzo scherzo no non penso in realtà eh? non penso ok ti vuoi bene? per quanto col primo non ci sia particolarmente simpatia però riconosco comunque che sia una forma di genialità e il secondo invece lo conosco poco comunque un bravo ragazzo anche lui molto talentuoso mi sembra uno che potrebbe avere una carriera longeva cioè quindi durare comunque negli anni perché sta spaccando parecchio ok ok ho finito ho finito bello bello la chat non ha capito un cazzo è normale che non senti bene l'ultima volta che vi siete ubriacate ovviamente per le persone maggiorenni ubriacate ma proprio tanto o brille? ubriacate del tipo no ubriacate tipo amo sto male quindi brille no no un pochino più di ubriaca un pochino più di brille e non come ubriaca merda ragazzo si può fare chi vuole ragazzo no cioè ci deve stare su tutto non su una sola cosa su questo è passaggio ragazze che vogliono la parità dei testi però il conto lo devono pagare lo devono pagare il maschio c'è dove scelta questo? giusto c'è nel senso ok 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 ci siamo ci siamo abbiamo trovato un punto un punto che mi piace la luce e il su Netflix no 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 sto parlando proprio della forma di governo ehi 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 Avanti in queste barre Te le chiudo tutte quante Perché dopo ti colpisco Come scimitarre Vado avanti Non so che cazzo dire perché sono qua Perché devi fare una sub Sono troppo forte in fare questo rap Te lo dico sono come madame Non c'entro cazzo con twitch madame Ho cambiato un po' il discorso Te lo dico sì Il beat è finito Tu non l'hai capito Vai vediamo jody C'è è successo tutto Quando ancora Sì quando ancora va No ma no Eh no no Non si capisce Cosa hai sentito Vabbè comunque Quando ancora era tutto normale Quando lui Quindi tanti anni fa C'è un paio di anni fa Sì io avevo Non c'era un fitch Questi sono una roba da Sfigate Questi che sono sfigato Questi che sono niki comodi Non che gli occhi comodi Sia sfigati È grande rispetto Ovviamente Pensi che io sia una merda umana Che deve morire Ok Tu invece hai twitch Nessuno di voi ha twitch installato Io avevo Tu avevi twitch Però non guardo Non penso sia una cosa da sfigati Anzi Però non ho mai Tu sei amica Anzi forse voi Siete amiche di Camilla Masato Io Sai che è stata in lei Lo so Sai con la sua posizione Mamma Allora un difetto di Camilla Ma io l'ho conosciuta Una volta in serata Non ho le maschere Di sicuro un difetto L'avrei Guarda in Sardegna Una volta in serata In Sardegna Lo so è partita Dove? Cioè non da Vabbè In Sardegna A Ombia A Ombia Basta eh Soltiamo Camilla Adesso si trova la gente sotto Tornate da noi Camilla Sì Sì Vabbè Ehm Comunque Rubino non lo conoscete voi? No Non avete idea di chi si è? No Cosa c'è? Ho una maschera di pelle Sopra il viso Che mi culla la vetrina Sulle pelle Con la musica Da ballare Da ballare Da ballare Insomma Si vede che al cyber piace la birra Gli piace molto la birra Gli piace molto la birra E alcuni giorni Esagera un pochino Eh? In Sardegna Grazie.